Si riapre l'ex sede dell'ente provinciale del turismo, che era passata poi con diverse peripezie alla proprietà della regione Liguria. Una bellissima costruzione, in evidenza nel centro del traffico e del passaggio, che abbiamo acquisito dalla regione ad un prezzo molto conveniente, che ci permette di raggruppare insieme l'assessorato alle manifestazioni, alla cultura, allo sport e al turismo, liberando il Cavour, che quindi sarà adibito unicamente a tutto ciò che ha a che fare con il teatro, con la scuola del teatro, con la danza e con tutto ciò che vogliamo ci sia per creare movimento, storia, cultura e arti nel Teatro Cavour. Vedete, per dire le cose come sono, il periodo dove c'è minor turismo e dove la città è più ferma è ottobre-novembre. Abbiamo ritenuto che fosse giusto valorizzare la nascita della città, che è il 21 ottobre di 96 anni fa, e che fosse giusto anche valorizzare il 26 novembre, che è la data del patrono della città di Imperia. E allora abbiamo pensato, in attesa del centenario, che sarà nel 2023, di fare ogni anno, in questo mese, mese e poco più, una serie di iniziative, coinvolgendo tutta la città sul tema di Imperia, della sua storia, perché è una città giovane, ma una storia antica, nei singoli capoluoghi, nelle singole cittadine, gli 11 ex comuni, e in questo modo coinvolgere le associazioni, i cittadini, creare insomma una città viva.